Musica Buongiorno, bentrovati al TG2000 di Mezzogiorno, i titoli di questa edizione. Il Papa, all'udienza generale in piazza San Pietro, ripercorre il suo recente viaggio in Egitto e dice è il paese della speranza, lì ha trovato il rifugio Gesù Bambino perseguitato e da lì riparte anche per noi oggi l'impegno per un nuovo ordine sociale. All'Italia prestito necessario ma staremo attenti ai soldi pubblici, dice il ministro dello sviluppo Calenda lodando la scelta dei commissari, poi aggiunge entro 15 giorni apertura alle manifestazioni di interesse per chi vuole acquistarla. ONG e scafisti alle 14, audizione in Senato per il procuratore di Catania che per primo ha sollevato il presunto scandalo. Indagine infondata, gli risponde l'omologo di Siracusa, in difesa delle navi salvavite delle ONG di volontari scendono in campo anche la Marina Militare e la Guardia Costiera. Dunque lo sentivate nei titoli, udienza in piazza San Pietro stamattina per Papa Francesco. Il pontefice ripercorre i principali appuntamenti vissuti nel corso dei due giorni trascorsi in terra d'Egitto. Lo scorso fine settimana 2, gli orizzonti del viaggio sintetizza quello della pace nel mondo e poi del dialogo fra cristiani e musulmani. Commovente il passaggio in cui è ricordato come dall'Antico al Nuovo Testamento l'Egitto abbia rappresentato sempre un buon rifugio di salvezza per il futuro dell'umanità. Per sapere tutti i particolari di questa mattinata ci colleghiamo, lo vedete in diretta, col Vaticano, con Leonardo Possati. Buongiorno Possati, ti ascoltiamo. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti gli telespettatori. Sì, come dicevi tu, il Papa ha ricevuto i pellegrini venuti a Roma per l'udienza generale, una Roma assolata con una temperatura decisamente primaverile. Francesco ha ripercorso il suo recente viaggio apostolico in Egitto, ne ha ricordato quelli che erano i capisaldi, ovvero il dialogo interreligioso fra cristiani e musulmani e poi la ricerca della pace. Una pace, ha detto il Papa, che va promossa attraverso l'educazione, attraverso la sapienza, attraverso la riscoperta di un umanesimo, ma soprattutto riscoprendo quello che è il rapporto fra Dio e l'uomo. E a tal proposito sentiamo proprio uno dei passaggi del Papa. La pace si costruisce anche ripartendo dall'alleanza tra Dio e l'uomo. Fondamento dell'alleanza tra tutti gli uomini, basata sul decalogo scritto sulle tavole di pietra del Sinai. Ma molto più profondamente nel cuore di ogni uomo, di ogni tempo e luogo, legge che si riassume nei due comandamenti dell'amore di Dio e del prossimo. Questo medesimo fondamento sta anche alla basse della costruzione dell'ordine sociale e civile in cui sono chiamati a collaborare tutti i cittadini di ogni origine, cultura e religione. Quindi Francesco ha ricordato quella che è la missione dei cristiani in Egitto, ovvero quella di essere sale, lievito e luce per queste terre, per le popolazioni che li vivono, ma per tutto il mondo. Francesco ha ricordato il suo incontro con Papa Tavadros II, il patriarca copto ortodosso, ha ricordato la firma della dichiarazione congiunta che promette di rispettare reciprocamente il rispetto fra le due chiese e poi ha ripercorso anche quello che è stato l'incontro con la piccola comunità cattolica egiziana, con la messa allo stadio del Cairo, una piccola comunità che il Papa ha invitato ad essere come i discepoli di Emmaus, il suo vero di cercare la loro speranza nell'incontro con Gesù risorto. Per questo ha detto il Papa l'Egitto è una terra di speranza, una terra di speranza lo è stato nel corso della storia, lo è stato per Israele, per Giacobbo e i suoi figli quando c'è stata la carestia che hanno trovato rifugio in Egitto, ma è stata anche speranza per la piccola famiglia di Nazareth quando Gesù era perseguitato da Erode che voleva ucciderlo e la famiglia di Nazareth è fuggita proprio in Egitto a trovare un suo rifugio. Per questo il Papa ha portato il ruolo fondamentale che l'Egitto ha avuto nella storia ma che ha anche oggi. Per questo riascoltiamo un passaggio di Francesco Abraccio nel quale ha ricordato appunto quello che è il ruolo dell'Egitto nella storia del mondo di oggi e la linea al termine può tornare allo studio. L'Egitto per noi è stato segno di speranza, di rifugio, di aiuto quando quella parte del mondo era affamato Giacobbo e con i suoi figli se ne è andato là poi quando Gesù è stato perseguitato è andato là per questo raccontarvi questo viaggio entra nella strada di parlare di speranza per noi l'Egitto ha quel suo segno di speranza sia per la storia sia per oggi per questa fraternità che vengo di raccontarvi. Veniamo ora alla vicenda all'Italia il Ministero dello Sviluppo Economico dispone l'amministrazione straordinaria arriva così un prestito da 600 milioni nominato un triunvirato di commissari allora per tutta l'estate e fino a Natale in questo modo garantiti i voli e anche salvati i biglietti a metà mese dunque l'ex compagnia di bandiera pronta a finire sul banco di vendita per chi volesse acquistarla. Augusto Cantelmi Vendere all'Italia per rilanciarla questo è il piano del governo dopo la via libera l'amministrazione straordinaria dell'azienda alla nomina dei tre commissari Luigi Gubitosi ex direttore generale della RAI Enrico Laghi già commissario dell'ILVA e l'ex rettore dell'Università di Bergamo Stefano Paleari ma viene escluso un intervento diretto dello Stato per il Ministro dello Sviluppo Economico Calenda i cittadini hanno già sborsato circa 8 miliardi per l'Italia compreso il prestito ponte accordato ieri Prestito ponte di 600 milioni di euro con una durata di 6 mesi che erano esattamente i termini di cui avevamo parlato già nel corso delle scorse settimane. I tre commissari ora devono predisporre un programma ed è previsto che entro 15 giorni iniziano ad avere i primi contatti l'obiettivo comunque è quello di puntare ad un'alleanza con un'azienda del trasporto aereo. Per quanto riguarda la fase di transizione invece massima attenzione da parte del Governo agli interessi di cittadini e lavoratori. Primo punto quindi garantire il diritto alla mobilità il secondo punto era garantire i diritti appunto di coloro che avevano acquistato biglietti e i diritti dei lavoratori. Equilibrio tuttavia precario sebbene con qualche certezza in più per i prossimi 6 mesi per effetto del prestito ponte l'azienda per ora conferma voli, biglietti e in linea di massima programma mille miglia ma saranno le prossime scelte dei commissari a definire meglio il futuro dell'ex compagnia di Stato. Il caso migranti e organizzazioni umanitarie che li salvano in mare si infuoca alla guerra fra procure attesa per l'audizione oggi pomeriggio in commissione difesa al Senato dove comparirà il procuratore di Catania a Zuccaro che ha lanciato le accuse e ha ascoltato ieri il suo omologo di Siracusa secondo cui si tratta invece di una pista investigativa infondata e anche la marina militare adesso dice in mare le ONG non sono mai state un intralcio anzi Luigi Ferraiuolo E' il giorno della verità per il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro che questo pomeriggio sarà ascoltato dalla commissione difesa del Senato sulle accuse nei confronti delle nave di alcune ONG le organizzazioni non governative cioè delle associazioni internazionali di volontariato che preleverebbero grandi massi di migranti dalla Libia in base ad accordi segreti anche dietro pagamento a dire la verità fino a ora sia la marina italiana ascoltata stamani in commissione che la guardia costiera ma anche i nostri servizi segreti hanno smentito la presenza di accordi tra scafiste e ONG per il controllo del traffico di migranti nel Mediterraneo anche la procura di Siracusa intervenuta nelle indagini ritiene che non ci siano prove per sostenere l'inchiesta sulle ONG mentre ha aperto un fascicolo anche la procura di Trapani in pratica ci sono per adesso due uffici giudiziari con ipotesi completamente diverse il motivo potrebbero essere le informazioni presenti in un rapporto Frontex l'agenzia europea per i confini citato più volte da Zuccaro che questa volta dovrebbe renderlo noto il procuratore di Catania è anche intenzionato a offrire ai commissari alcune proposte per regolamentare l'azione delle organizzazioni umanitarie nelle operazioni di soccorso dei migranti dalla creazione di una white list delle ONG all'obbligo di tracciabilità di tutte le rotte intanto il capo delle operazioni della guardia costiera il contrammiraglio Nicola Carlone ha chiarito al comitato Schengen del Parlamento che la presenza delle navi delle ONG davanti alla Libia non rappresenta un fattore d'attrazione per i trafficanti di esseri umani la loro presenza ha sottolineato non dà impulso alle partenze Eve forse più a una bravata che a un tentativo di rapina la morte sugli scogli di un anziano in Puglia si stringe il cerchio attorno a presunti aggressori ascoltati nella notte due minorenni di 17 anni convocati in caserma dai carabinieri militari dell'arma li hanno interrogati sui possibili autori dell'aggressione di ieri nel corso della quale due anziani ultra settantenni sono stati spinti giù dalla scogliera la vedete a Monopoli in provincia di Bari secondo quanto ricostruito finora la vittima il 77enne Giuseppe Di Bello si trovava sugli scogli insieme a un amico coetaneo quando entrambi sono stati avvicinati alcuni ragazzi e la ricostruzione su quanto avvenuto anche grazie al sopravvissuto si fa adesso più chiara e escluderebbe la rapina propendendo di più per una bravata oppure purtroppo uno scherzo finito male di certo al termine di una discussione i due pensionati sono stati scaraventati in mare dalla scogliera Di Bello è morto dopo un volo di un paio di metri avendo urtato violentemente il corpo sugli scogli che affioravano a pelo d'acqua ma l'autopsia stabilirà se sia morto per l'impatto oppure per annegamento l'amico invece è riuscito a salvarsi cadendo in acqua e benché rischiando quasi di annegare è riuscito alla fine a essere tratto in salvo da alcuni ragazzi non lontani dal luogo dell'aggressione e adesso ci occupiamo di scuola andiamo a Torino è il giorno delle famiglie degli istituti paritari che scendono in piazza contro la sindaca Pennino i tagli imposti dall'amministrazione comunale 57 le materne che non riceveranno più il 25% dei contributi l'amministrazione risparmierà 750 mila euro ma le famiglie dovranno accollarsi 130 euro in più all'anno da Torino Monica Gallo non ci sono i bambini in piazza ma le loro sagome sì a ricordare che i politici con le loro scelte stanno calpestando i diritti dei nostri bimbi non ho ribadito i genitori non gli insegnanti che questa mattina hanno organizzato un presidio davanti al palazzo civico di Torino dove è in corso la discussione sul bilancio comunale per protestare contro il taglio del 25% delle risorse alle scuole paritarie 750 mila euro in meno per le 57 scuole materne della città che causeranno un aumento delle rette di circa 130 euro per famiglia 25% è un taglio forte molto forte i contributi che dà il comune non sono già alti e questo verrebbe a peggiorare ulteriormente la situazione i genitori nelle scorse settimane hanno promosso una raccolta firme quello che abbiamo fatto i conteggi prima abbiamo raggiunto circa 10.000 firme che porteremo e presenteremo nelle mani del sindaco firme raccolte da noi genitori nel senso che questo non è un movimento di una scuola piuttosto che di un gruppo di scuole piuttosto che della fisma anche se abbiamo dei rappresentanti piuttosto che di un partito politico o altro no una cosa partita assolutamente dalle viscere di noi genitori l'impegno l'impegno della sindaca chiara pendino preso dopo la lettera aperta scritta da 14 parruci e dall'arcivescovo di torino monsignor cesare nosiglia è di integrare le risorse in assestamento di bilancio nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro con la fismo e la federazione italiana scuole materne per cercare soluzioni operazione 730 al via la verifica online torniamo a occuparci delle dichiarazioni dei redditi tra le novità più vantaggiose l'inserimento in automatico delle spese mediche ma attenzione a chi intende correggere a mano quanto riportato di sicuro partirà l'accertamento e vi verranno allora richiesti di mostrare tutti gli scontrini Luciano Piscaglia operazione 730 online al via da oggi infatti è possibile accettare oppure modificare la dichiarazione dei redditi precompilata dall'agenzia delle entrate il modello 730 precompilato è reperibile nel sito fisco online utilizzando le proprie credenziali di accesso che si possono richiedere negli uffici territoriali dell'agenzia oppure con l'apposito pin dispositivo IMS una volta scaricato il modello può essere controllato accettato così come è stato compilato sulla base dei dati conosciuti dal fisco oppure integrato o corretto nelle parti che contengono imprecisioni o errori deve essere poi rispedito all'agenzia entro il 24 luglio se è un 730 o il 2 ottobre se è un ex modello unico nelle parti precompilate ed è questa la principale novità si troveranno anche tutte le spese sanitarie sostenute per prestazioni servizi e farmaci insieme a tutti i dati in possesso dell'anagrafe tributaria i mutui le assicurazioni i contributi previdenziali e le spese sostenute come quelle per la formazione e per le ristrutturazioni se accettato così come è stato precompilato dall'agenzia delle entrate il 730 non sarà oggetto di successivi controlli se il contribuente inserirà invece qualche modifica potrebbe vedersi richiedere la documentazione relativa oltre a non dover eseguire calcoli chi presenterà il modello precompilato avrà anche il significativo vantaggio di ottenere l'eventuale rimborso di imposta direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione le dichiarazioni precompilate già online e pronte per essere inviate sono oltre 20 milioni siamo a terza pagina solo pochi giorni fa abbiamo festeggiato la compatrona d'Italia ed Europa Santa Caterina da Siena con Saverio Simonelli allora un romanzo avvincente dedicato alla mistica ma anche a un'altra Caterina che vive nei nostri giorni e scopre un misterioso manoscritto il TG2000 torna alle 18.30 arrivederci buona visione grazie a tutti